Buongiorno a tutti cari iconisti, oggi vi voglio parlare della mia testa fotografica preferita, ossia questa, la Manfrotto 410, una testa cremagliera con sblocchi rapidi, veramente molto molto pratica da utilizzare. Questo tipo di test permette il movimento molto preciso, vedete che girando questa ghiera, o comunque questa, o quest'altra, posso muovere la testa su tutti gli assi con enorme precisione, quindi posso essere davvero molto molto preciso, vedete che balla un po' perché il treppiedi è messo in una posizione stupida e quindi non è molto stabile, però fidatevi che è estremamente preciso il movimento. Però possiamo anche fare un'altra cosa, muovere molto rapidamente la nostra testa, quindi girando questa leva qui possiamo sbloccare questo movimento, girando questa sblocchiamo questo movimento e girando questa sblocchiamo il terzo movimento, quindi tutto quanto può essere fatto molto più rapidamente di come si potrebbe fare con qualsiasi altra testa fotografica. Vedete che quando premo e mollo fa un piccolo saltello perché ovviamente l'ingranaggio deve andare a innestarsi sulla corona dentata che è qui all'interno. L'ingranaggio come è fatto? L'ingranaggio è fatto così, è una vite senza fine. Questa la vedete qua perché l'ho già sostituita, dopo un po' di tempo, diciamo dopo dieci anni di uso intenso, ho consumato una di queste rotelle e quindi l'ho sostituita. Manfrotto fornisce sempre ricambi, nel ricambio c'è compresa questa vite senza fine, la manopolina in gomma, la vera manopola di metallo, d'alluminio che c'è sotto, lo sblocco rapido, che è questo pezzettino di plastica qua, e ovviamente la sua molla di ritorno, quindi anche di sicurezza. Perché ho sostituito solo la vite senza fine e non ho sostituito la parte, diciamo, a cremagliera, che in realtà non è una cremagliera, è un ingranaggio all'interno? Beh, molto semplice, perché si era consumata quella su questo movimento qua, quindi il movimento laterale, questo qua, e questi movimenti qui, uno e due, permettono di ruotare solo di 120 gradi, ossia 30 gradi in un senso e 90 nell'altro. Quindi cosa ho fatto? Non ho sostituito la parte dentro di ingranaggio, ho semplicemente girato di 120 gradi l'ingranaggio, quindi andando a lavorare su un pezzo che è in ottima salute. Quando invece si va a fare la manutenzione sulla parte centrale, questa qua, bisogna ovviamente cambiare anche la parte di ingranaggio, perché ovviamente questa qui girando a 360 gradi può consumarsi su tutti i lati, però ovviamente ci metterà anche più tempo a consumarsi, perché ovviamente si lavora su un maggior numero di ingranaggi e quindi l'usura sarà minore. Perché vi ho parlato subito di problemi? Perché vi ho parlato subito di manutenzione? Perché queste teste sono nate per l'uso professionale, quindi è fondamentale che questi strumenti possano funzionare per decine, se non anche centinaia di anni. E come fanno a lavorare per così tanto tempo? Beh, è molto semplice, basta fare manutenzione. Quindi questo tipo di testa è praticamente eterna, voi la comprate una volta, se avete un problema, e prima o poi ci sarà un problema perché si parla di meccanica, quindi la meccanica non è eterna, si può consumare, soprattutto se la si usa in maniera pesante, in maniera professionale, però Manfrotto vi fornisce tutti i ricambi e quindi questo è un enorme vantaggio. Ed è un eccellente motivo per scegliere Manfrotto e non scegliere un'altra marca, perché Manfrotto vi fornirà sempre i ricambi. Anche tra 20 anni troverete i ricambi di questa testa, che penso sia in commercio già da almeno 20 anni, quindi insomma, è un prodotto vecchio, sarà in commercio probabilmente ancora per tantissimo tempo, e i ricambi si troveranno ancora per ancora più tempo. Quindi questa testa la potete comprare oggi e usare per tutto il resto della vostra vita, senza nessun problema. Con l'uso normale che può farne un fotoamatore, questa testa non necessita di manutenzione per tempi veramente enormi, quindi potete usarla per decine di anni senza nessunissimo problema. Chiaramente chi la usa a livello professionale la sfrutterà tanto e ovviamente le parti in ottone, come appunto la vita senza fine, oppure l'ingranaggio, che è in alluminio, si consumeranno e quindi bisognerà sostituirli. Perché scegliere una testa come questa piuttosto che una testa più classica, come potrebbe essere una testa a sfera? Beh, perché l'ho già detto, queste teste qui permettono di avere una precisione assoluta. Ma non è solo precisa, è anche veloce, perché quando voi utilizzate una testa a sfera dovete sbloccare tutto ogni volta, quando invece magari voi dovete cambiare solo l'inclinazione su questo asse e non su tutti gli assi. Quindi questa testa vi permette di farlo. Voi direte, beh, ma esistono le teste a tre vie normale, anche questa, tecnicamente, è una tre vie. Una tre vie normale fa lo stesso lavoro. No, perché la tre vie normale dovete svitare, muovere e poi riavvitare. In quel momento lì di riavvitare, ovviamente, non sarà mai fermissima la fotocamera e non sarà mai messa nel posto che volete voi. Invece con questa potete fare il movimento rapido e poi andare di precisione e regolare perfettamente la posizione della vostra fotocamera. E questo vi assicuro che velocizza tantissimo tutte le operazioni di puntamento della fotocamera. Sembra più lenta? È incredibilmente più veloce. Più veloce di qualsiasi altra testa, ovviamente per uso statico. Non si può chiaramente fare il paragone con una testa bilanciere che ha tutt'altro utilizzo. Quelle ovviamente si usano sbloccate, magari per inseguire un uccello, un animale, eccetera. In quel caso lì, quelle teste lì non sono sostituibili da questa. Però in tutte le situazioni in cui la fotografia deve essere statica, questa è la soluzione migliore. È la soluzione migliore anche perché ha questo tipo di piastra qua. È una piastra molto grande, è veramente generosa come dimensioni, purtroppo ha anche un peso abbastanza importante. Questa piastra pesa circa 90 grammi. Io ne ho diverse, hanno pesi compresi tra 85 e 100 grammi circa. in base probabilmente all'anno di produzione, il metallo, eccetera. Non lo so bene, però il peso è abbastanza variabile tra una e l'altra. Non chiedetemi perché le ho pesate, però le ho pesate. E questo tipo di attacco si chiama RC4O410PL. Questo attacco permette di connettere la macchina sulla testa con estrema velocità, ma anche in estrema sicurezza. Per montare la fotocamera sul treppiedi basterà appoggiare la macchina che sarà ovviamente montata su questa piastra e spingere verso il basso. Fatto. Non serve nessun'altra operazione, non c'è nessun gancio di sicurezza da mettere. Il gancio di sicurezza si attiva in automatico. È tutto completamente automatico. E la vera sicurezza è questa, il fatto di potervi fidare sempre della vostra piastra 410. Per sbloccare ha un doppio sistema di sicurezza. Bisogna tirare questa leva, ma vedete che tirando non si sgancia comunque. Diventa ballerina, ma non si sgancia assolutamente. Bisogna premere anche questa parte qui e a questo punto è possibile rimuoverla. Vedete che per lo sblocco c'è questa parte in ottone. Se io la premo, ovviamente questa va indietro e se faccio così vedete che non posso sbloccare accidentalmente. Bisogna premere il tastino. E quindi questo sistema è a dir poco geniale perché è super stabile ed è super sicuro ma soprattutto super veloce. A differenza per esempio di quei giocattoli, io li definisco dei giocattoli, delle piastre Arca Swiss, questa è una cosa veramente fatta a regola d'arte. Non è un giocattolo, non è fatta male e soprattutto, lo ripeterò all'infinito, è veloce da usare. Come vedete la mia testa 410 qui è bella sbeccata. Se poteste vederla bene da vicino vedreste che qui è tutto usurato, che qua ci sono segni di usura dappertutto, che ci sono segni di usura anche sulle manopole. Ci sono segni di usura praticamente in ogni dove su questa testa. Mi è caduta non so quante volte perché comunque nel lavoro capita che trasportando gli oggetti cadano e non ha mai subito nessun danno se non quelli di usura normale perché giustamente usandola tantissimo ho dovuto appunto come vi ho già detto sostituire una vite senza fine ma non è un problema insomma costa una trentina di euro e la testa l'avevo pagata parecchio perché costava più di 200 euro adesso con gli sconti costa sui 170 quindi non è male come prezzo e meglio che ci sia in questa fascia di prezzo perché c'è anche la versione più grande la 405 che ha un peso decisamente impegnativo già questa è molto pesante pesa un kilo e 26 quindi è una testa decisamente molto pesante la 405 è ancora migliore è fatta ancora meglio porta pesi maggiori è fighissima semplicemente fighissima però fin eccessiva perché comunque è una testa davvero importante sia come prezzo che come peso quindi insomma portarsela dietro non è il massimo questa qui l'ho portata praticamente ovunque anche in viaggi in aereo me la porto dietro perché questa è la testa più comoda che ho esiste anche la versione piccola di questa che è stata fatta di recente da Manfrotto ha un nome stranissimo ve lo linko in descrizione bella anche quella ma non è assolutamente paragonabile a questa questa è a un altro livello di qualità di costruzione di solidità e tutto quanto una cosa interessante di questa testa è la grande cura dei dettagli che ha avuto Manfrotto progettandola vedete che qua siamo nella parte inferiore rispetto a dove va la piastra porta fotocamere ci sono due filetti uno grande quindi da tre ottavi e uno piccolo da un quarto di pollice quindi quando voi non utilizzate la vite grossa la togliete dalla piastra e la mettete qui e viceversa in questo modo avete sempre a disposizione sulla vostra testa entrambi i tipi di vite quindi magari non so lavorate con la medio formato avete qua pronta la vite per la medio formato e ritirate quella per la fotocamera normale quindi come fosse una Nikon e viceversa in questo modo siete sempre pronti all'uso questa è una grande cosa o meglio è una piccola cosa un piccolo dettaglio che però fa grande questo prodotto pregi e difetti di questa testa fotografica il suo maggior pregio è sicuramente la velocità e precisione che sono la stessa cosa in questa testa non è solo una testa veloce non è solo una testa precisa è una testa veloce e precisa è veramente una combinazione che è indissolubile tra queste due cose il secondo miglior pregio è la costruzione veramente granitica è fatta si vede che è fatta per durare terzo pregio è l'attacco RC4 che sicuramente è il miglior tipo di attacco rapido che sia mai stato anche solo pensato perché questo tipo di attacco rapido è il top e il top non ce n'è proprio per nessuno altro pregio che possiamo sicuramente trovare in questa testa è il fatto che esistano i ricambi è una cosa veramente molto vantaggiosa vi permette di tenere la vostra testa praticamente in eterno e usarla anche senza troppe preoccupazioni perché sapete che qualsiasi cosa succeda male che vada anche se la usate proprio allo sfinimento in ogni caso potrete ripararla e si ripara con un cacciavite non c'è niente di particolare forse una brugola comunque una stupidata da aggiustare quindi assolutamente un altro pregio è questo qua svantaggi questa testa ne ha davvero pochi uno di questi è il peso un 1,26 kg non è di sicuro un peso trascurabile quindi bisogna pensarci due volte prima di comprarla perché comunque se volete lavorare in condizioni in cui portare peso è un problema chiaramente bisogna valutare la versione più piccolina che non mi ricordo mai il nome ma ve lo lascio in descrizione e la versione più piccolina è decisamente più leggera porta un chilo in meno di questa questa ne porta 5 in sicurezza l'altra ne porta 4 però anche quella lì è un buon è un buono strumento sicuramente questa è migliore ma quella lì anche è molto buona un altro suo difetto è sicuramente il fatto che provoca dipendenza una volta provata non vorrete mai più tornare a una testa a tre vie quello di sicuro ma probabilmente non vorrete neanche saperne nulla delle teste a sfera anche se comunque sono comode io in questo momento sto riprendendo con una testa a sfera basta siete ancora qui a guardare il video corretta a comprare la 410 e non so ditelo a Manfrotto che vi ho mandati io non so quante ne ho fatte vendere di queste teste però tante dovrebbero darmi un premio anzi dovrebbero darmi un premio solo per il fatto che ho tipo 57.000 cose di Manfrotto ho veramente tanti accessori un giorno vi farò vedere magari la mia tra virgolette collezione di prodotti Manfrotto che è decisamente impressionante bene questo è tutto spero di non avervi annoiato ho cercato di fare un video un po' più breve del solito un po' più veloce e diretto come sempre perché non mi piace girarci troppo intorno alle cose ricordatevi di iscrivervi al canale e di seguirci anche su Facebook grazie grazie